Buongiorno, oggi parliamo di validazione e scelta del modello. Questi sono gli argomenti, parleremo prima del test i quadrato, poi del test della F di Fischer, di cross-validazione e di alcuni criteri cosiddetti oggettivi per la scelta del modello migliore. E poi avremo anche un esempio e trarremo alcune conclusioni. Qual è la motivazione della lezione di oggi? Una volta che noi conosciamo la struttura del modello, cioè conosciamo la matrice F di Uθ, vi ricordo che U sono le variabili indipendenti e θ sono i parametri del modello, abbiamo visto che è relativamente facile stimare θ, soprattutto se F di Uθ è lineare in θ, quindi è una F di U che moltiplica un vettore θ. Tuttavia rimangono alcuni importanti problemi aperti. Il primo problema è capire se un dato modello che noi stiamo stimando effettivamente è un buon modello e il secondo problema è, quando abbiamo a disposizione più modelli in competizione tra di loro, decidere quale di questi modelli è migliore rispetto agli altri. Ecco, cominciamo con il problema della validazione. Allora, l'ipotesi è quella di avere dei dati, un vettore y, i quali sono generati da questo modello, questo modello vero, in cui abbiamo φ per θO, θO è il vettore vero dei parametri, visto come una quantità deterministica che però noi non conosciamo, più un vettore V di variabili casuali che possiamo interpretare come un disturbo o un errore di misura. Qui stiamo introducendo una ipotesi probabilistica su questo vettore V. Noi, anche se qui non è scritto, ipotizziamo che sia media nulla e inoltre ipotizziamo che la varianza di questo vettore sia proporzionale alla matrice identità attraverso un coefficiente scalare σ² che eventualmente potrebbe essere incognito. Quindi la nostra ipotesi è che questo modello descriva adeguatamente i nostri dati. Però, diciamo, potremmo non essere sicuri della bontà di questo modello, quindi vorremmo avere un qualche criterio per validarlo. Come si può procedere? Allora, l'idea di base è molto semplice. Immaginiamo di procedere a una stima del modello tramite minimi quadrati. Voi sapete che questa ipotesi che abbiamo fatto è quella che nelle altre lezioni abbiamo chiamato ipotesi I2 e in particolare, quindi, la stima minimi quadrati coincide con lo stimatore blu, best linear and biased estimator o altresì detto stimatore di Markov. Quindi procediamo con una stima minimi quadrati che, diciamo, dà lo stesso risultato dello stimatore blu. Se questa stima riesce ad approssimare abbastanza bene il vettore vero dei parametri θO, allora il vettore dei residui, che è definito come y-φ θLs, diventa una stima del vettore V del rumore. Perché diventa una stima del vettore V del rumore? Perché θLs assomiglia a θO e quindi quando calcolate y-φ θLs vi rimane qualcosa di simile a V. A questo punto posso prendere i residui e calcolare quella che è una varianza campionaria noto il valore medio. Noi sappiamo che il valore medio è 0, per ipotesi, quindi calcoliamo questa varianza campionaria noto il valore medio. Questa diventa una stima della varianza di V, perché se i residui assomigliano a V, calcolando questa varianza campionaria, ottengo esattamente una stima di σ quadro. A questo punto ho la possibilità di fare un confronto. Naturalmente il confronto è possibile solo nel caso in cui io conosca σ quadro. Quindi se io conosco σ quadro, posso confrontare il σ quadro vero che io conosco con il σ quadro ottenuto attraverso questo stimatore campionario. E l'idea è che le due quantità dovrebbero assomigliare. In particolare, se il σ quadro che io ipotizzo di conoscere e la varianza campionaria dei residui hanno lo stesso ordine di grandezza, mi sentirò rassicurato. Ma se per esempio ho degli errori di misura dell'ordine di 10 alla meno 3 e i residui invece sono dell'ordine di 10 alla meno 1, c'è qualcosa che non va nel modello, perché vuol dire che io sto ottenendo dei residui molto più grandi di quelli che mi aspetterei avendo un errore di misura così piccolo, abbiamo detto un errore di misura dell'ordine di grandezza di 10 alla meno 3. Naturalmente questo è un ragionamento puramente qualitativo e noi vorremmo invece rafforzarlo con una qualche base di tipo statistico. Ecco, quindi dobbiamo domandarci cosa significa che la varianza campionaria dei residui debba essere dello stesso ordine di grandezza di questa quantità σ quadro che noi ipotizziamo di conoscere. Allora, viene in nostro soccorso a questo punto un risultato di statistica. Il risultato di statistica però richiede un'ipotesi un po' più forte di quella che abbiamo fatto finora. Dobbiamo sbilanciarci anche sulla distribuzione del vettore V. Quindi a questo punto ipotizziamo che il vettore V, oltre ad avere media nulla e varianza proporzionale all'identità, sia anche distribuito gaussianamente, quindi abbia una distribuzione normale multivariata, multivariata perché, ricordiamolo, V è un vettore. Quindi il modello che io sto sottoponendo a validazione a questo punto è questo modello in cui ipotizzo anche di conoscere la distribuzione del rumore V. Sotto questa ipotesi I con 1 vale un teorema che ci dice che la somma dei quadrati dei residui, che qui indicheremo con SSR, sum of squared residuals, divisa per sigma quadro, è una variabile casuale di tipo chi quadrato e, più precisamente, una chi quadrato con n meno q gradi di libertà. Cosa indico con n? Cosa indico con q? Con n indichiamo il numero dei dati, quindi la dimensione del vettore y, e con q indico invece il numero di parametri incogniti, quindi la dimensione del vettore θ. Da questo, vedendo che n può essere diverso da q, capite che la matrice φ in generale è una matrice rettangolare e non quadrata. Ecco, il teorema più precisamente ci dice che ε trasposto a ε, che non è nient'altro che la norma di ε al quadrato, diviso sigma quadro è distribuito come una variabile casuale chi quadrato a n meno q gradi di libertà. ricordate che la variabile casuale chi quadrato è una variabile che assume solo valori non negativi e che ha una forma che potrebbe essere di questo tipo, poi per valori grandi dei gradi di libertà tende a diventare gaussiana. Ecco, noi abbiamo già incontrato la variabile chi quadrato, vi ricordate che il suo valore atteso è n meno q e la sua varianza è 2 volte n meno q. Inoltre, come dicevo prima, quando i gradi di libertà sono grandi la sua funzione di distribuzione diventa gaussiana. Ma il punto principale di questo teorema è che io a questo punto posso calcolare questa quantità a sinistra e vedere dove si colloca lungo questa densità di probabilità. Qual è l'idea? L'idea è che sotto l'ipotesi I1, che in questo tipo di approccio viene chiamata ipotesi nulla, sotto l'ipotesi nulla questa quantità ha questa densità di probabilità, quindi il più delle volte troverò dei valori in questa zona centrale. Se mi capita di trovare un valore molto estremo, cioè di trovare dei residui molto grandi, naturalmente io posso pensare che sia soltanto un colpo di sfortuna, però potrei anche pensare che l'ipotesi I1 non è esattamente confermata dai dati, anzi in qualche misura è smentita dai dati. Ecco, questo ci conduce allo sviluppo di quello che si chiama un test di ipotesi, quindi utilizzando questa funzione di distribuzione posso mettere a punto un criterio per decidere quando la somma dei quadrati dei residui, questa epsilon trasposto a epsilon, è troppo grande in confronto a sigma quadro. Ecco, questa è la tabella del chi quadrato, tra un attimo ci tornerà utile. Ecco, ricordate che la tabella del chi quadrato ovviamente dipende dai gradi di libertà, e qui vedete i gradi di libertà, e poi c'è questo alfa, alfa mi indica il livello di confidenza. Quindi, per esempio, con alfa uguale 005, che è quello che noi useremo, quindi 5%, sto indicando che il valore nella tabella è il valore in corrispondenza del quale questa coda, dall'area sotto questa coda, vale il 5%, cioè capita soltanto nel 5% dei casi che la realizzazione della variabile casuale assuma un valore più grande di quello indicato nella tabella. Ma, diciamo, tra un attimo faremo un esempio e vedremo. Ecco, l'esempio potrebbe essere questo, abbiamo 10 dati e 3 parametri, in questo caso, quindi, n-q uguale 10-3 uguale 7. Consulto la tabella della distribuzione chi quadrato, con alfa uguale 5%, quindi dobbiamo tornare qui, dobbiamo metterci sulla riga 7, alfa uguale 5%, e otteniamo 1407. Cosa significa questo 1407? significa che, se io prendo una variabile casuale chi quadrato con 7 gradi di libertà, nel 95% dei casi il valore che si assume è minore o uguale a 1407, mentre invece solo nel 5% dei casi vengono ottenuti dei valori maggiori di 1407. Ecco, questo ci permette di sviluppare un criterio decisionale, e quindi io vado a calcolare la somma dei quadrati dei residui, epsilon trasposto a epsilon, divido per sigma quadro, e se questa quantità è maggiore di 1407, ho il legittimo sospetto che il modello non sia buono. Il modello potrebbe essere buono, ma se il modello è buono, capita solo una volta su 20 che questo valore a sinistra sia più grande di 1407. Ecco, questo viene formalizzato nel test chi quadrato, in cui fissato il livello di significatività alfa, diciamo che tipicamente si usa alfa uguale 0.05, il 5%, anche se non c'è una ragione, diciamo, di necessità per scegliere il 5% piuttosto che l'1%, diciamo che è una scelta popolare, e vado a cercare sulle tabelle il valore di x alfa, questo x alfa nel nostro caso era proprio 1407 nell'esempio precedente, e poi si adotta una regola molto semplice. Se epsilon trasposto a epsilon diviso sigma quadro è più piccolo del valore critico, accetto il modello. In realtà più che accettare il modello diremo che non respingo il modello. Se invece è più grande di x alfa, si dice che viene rigettata, respinta l'ipotesi nulla. E quindi dal nostro punto di vista vuol dire che respingiamo il modello. Ecco, dobbiamo stare attenti che la parola accetto il modello andrebbe presa tra virgolette, perché in realtà non c'è mai un'accettazione definitiva, semplicemente noi stiamo facendo una specie di falsificazione, per cui vediamo se i dati a nostra disposizione contraddicono l'ipotesi I con 1, che abbiamo detto in questi contesti viene anche ridenominata ipotesi nulla, l'ipotesi che viene sottoposta a test statistico. Quindi se i dati sono in contraddizione con l'ipotesi che noi stiamo esaminando, il modello viene respinto. Naturalmente è un respingimento di tipo probabilistico, perché come abbiamo detto potrebbe benissimo essere che il modello sia vero, ma che una volta su 20 effettivamente, per pura casualità, il valore critico viene superato. Questa probabilità di superamento del valore critico viene chiamata probabilità di falso positivo. falso positivo, perché in questo caso la positività è effettivamente respingere il modello, quindi è la probabilità di respingere il modello quando invece il modello andava accettato. Quindi il test costruito in questo modo, se prendo alfa 5%, ha un 5% di probabilità di commettere dei falsi positivi, quindi di respingere il modello quando invece il modello poverino andava accettato. Ecco, noi in tutta questa trattazione avrete notato che stiamo ipotizzando che la matrice varianza del vettore V è proporzionale all'identità, mentre invece avevamo già discusso la possibilità che gli errori di misura avessero varianza diversa gli uni dagli altri. In questo caso si ha una matrice sigma V che non è più proporzionale all'identità, potrebbe essere sempre una matrice diagonale con elementi diversi l'uno dall'altro sulla diagonale e potrebbe anche essere una matrice piena. Ecco, nel caso in cui il vettore V è distribuito in questo modo, tutto quello che abbiamo discusso sul teschi quadrato può in realtà essere replicato tale e quale semplicemente utilizzando al posto della somma dei quadrati dei residui, epsilon trasposto a epsilon, questa somma pesata che è epsilon trasposto sigma V alla meno 1, epsilon, quindi con questa accortezza tutti i risultati si conservano. Ecco, quindi questo è uno strumento interessante che se abbiamo delle informazioni sulla varianza del rumore ci permette di dire se il nostro modello è accettabile oppure se deve essere respinto. Diciamo che l'accettazione in realtà è solo un non respingimento, perché potrebbe benissimo essere che arrivando nuovi dati, con questi nuovi dati poi si proceda a respingere del modello, quindi più una logica di falsificazione, cioè di vedere se i dati sono tali da indurmi ad abbandonare il modello. Quali sono i punti deboli di questo approccio? Allora, questo approccio naturalmente ci può dire che non c'è motivo di abbandonare il modello, oppure ci può dire che noi respingiamo il modello, però se respingiamo il modello ci piacerebbe capire perché respingiamo il modello. Ecco, non è facilissimo, non è immediato capire la ragione, infatti ci sono almeno 4 possibilità che spiegano il respingimento del modello. Potrebbe essere che il modello effettivamente sia sbagliato, per esempio qui abbiamo una relazione di tipo in cui la matrice phi è costruita in maniera tale per cui la y dipende linearmente dagli ingressi, oppure potrebbe invece in realtà esserci una dipendenza quadratica, quindi il modello lineare è sbagliato, la matrice phi che stiamo usando non va bene e il modello viene respinto per questo. Però potrebbe anche essere che la matrice phi che stiamo usando è giusta e il nostro errore consiste nel fatto che il test di ipotesi è costruito ipotizzando che V sia distribuito gaussianamente, quindi invece il modello è sostanzialmente giusto, tranne che per la distribuzione di V e anche questo può bastare perché scatti il test quadro e mi faccia respingere il modello. Oppure potrebbe essere che è sbagliato il valore di sigma quadro, quindi per esempio il valore di sigma quadro potrebbe essere sbagliato per difetto. Questo è un caso meno insolito di quanto si possa sospettare perché per esempio se effettivamente stiamo parlando di strumenti di misura è forte la tentazione di prendere come sigma quadro la varianza degli errori di misura dichiarata dal costruttore dello strumento di misura. Ma tipicamente queste varianze sono valutate in laboratorio, oltretutto chi vende lo strumento ha interesse a far credere che lo strumento funzioni molto meglio come funziona in realtà e quindi poi usato sul campo, magari anche con degli operatori che non lo usano in maniera ottimale, potrebbe essere che le misure abbiano una varianza più grande di quella teorica. E quindi questa potrebbe anche essere una situazione in cui il modello è giusto, il valore di sigma quadro è sbagliato perché ci siamo fidati di qualcuno che ci ha fornito un valore un po' ottimistico. Oppure, quarta ragione, potrebbe essere che abbiamo sbagliato la struttura della matrice varianza di V. Per esempio abbiamo ipotizzato che fosse proporzionale all'identità, mentre invece è un caso in cui gli errori di misura hanno varianza differente gli uni dagli altri. Quindi ancora una volta, il modello sarebbe giusto e io ho fatto un errore solo nella descrizione probabilistica del mio rumore. Ecco, in conclusione direi che però il problema più grosso è che questo tipo di test si basa sull'ipotesi che esista un modello vero. Quindi noi abbiamo ipotizzato che questo sia il modello vero che spiega i dati. Ecco, questo in alcuni casi potrebbe anche essere vero, magari ci sono delle ragioni fisiche che fanno pensare che i dati si comportino secondo una certa legge matematica, ma soprattutto quando si fa identificazione a scatola nera, ipotizzare che esista un modello vero, in questo caso tra l'altro un modello di tipo lineare, che genere i dati e che gli errori abbiano una certa distribuzione, può essere un'ipotesi particolarmente semplificativa. e spesso noi usiamo dei modelli che approssimano la realtà, ma immaginare che esista veramente un modello, che noi abbiamo azzeccato questo modello che genere i dati, questa potrebbe essere un'ipotesi particolarmente forte. Passiamo ora al secondo problema. Allora, il secondo problema che vogliamo affrontare in questa lezione è il confronto tra modelli. Allora, questa è una tecnica molto comune, soprattutto nell'identificazione a scatola nera, non sapendo qual è il modello che spiega i dati, si considera un intero repertorio di modelli, si identificano tanti modelli e poi si fa una specie di gara tra i modelli con l'idea di prendere il migliore dei modelli tra quelli a disposizione. Quindi sorge naturalmente il problema di decidere qual è il modello migliore tra un certo ventaglio di possibilità. Ecco, in questo contesto cominciamo a studiare il caso in cui il nostro repertorio di modelli ha una struttura ben particolare. In particolare discutiamo il caso dei cosiddetti modelli matrioska. Questo è un termine, diciamo, in qualche modo che non troverete nei testi, perché è un termine inventato tra l'altro da, mi sembra, dei colleghi padovani, però io lo trovo molto espressivo e quindi mi piace usarlo. Cosa intendo per modelli matrioska? Per modelli matrioska, per classi di modelli matrioska, intendo una sequenza di classi di modelli che hanno questa particolare proprietà. Ogni classe comprende al suo interno, come casi particolari, le classi precedenti. Faccio prima a fare un esempio. Per esempio, se io considero i polinomi e prendo la classe delle rette, e poi la classe delle parabole, e poi la classe delle cubiche, cioè dei polinomi di terzo grado, è chiaro che una retta può essere vista come una particolare parabola, basta mettere a zero il coefficiente del termine quadratico, e che qualsiasi parabola può essere vista come una particolare cubica, basta mettere a zero il termine di terzo grado. Quindi in questo caso abbiamo proprio delle classi di modelli matrioska in cui le rette stanno all'interno della bambolina russa delle parabole, la quale sta all'interno della bambolina russa delle cubiche. Quindi abbiamo delle bamboline russe sempre più grandi, che però contengono al loro interno tutte le bamboline russe precedenti. Il termine tecnico corretto si parla di modelli gerarchici, in inglese troverete il termine nested models, modelli annidati, nest vuol dire nido. Ecco, allora affrontiamo il problema tipico in questo contesto, noi abbiamo un problema tipico in questo contesto, abbiamo a disposizione delle coppie x con i, y con i, ovviamente una coppia x con 1, y con 1 identifica un punto nel piano, quindi potrebbe essere questo asterisco, la coppia x2, y2 identifica un altro punto, quindi abbiamo diversi punti nel piano che sono questi asterischi, e vorrei identificare un modello che descriva, diciamo, la relazione che esiste tra y e x. Ovviamente ci sono tantissimi modelli possibili, tra tutti questi modelli vorrei usare dei polinomi di ordine k, quindi avendo a disposizione questi dati, guardate questi asterischi, io potrei pensare di descrivere la relazione che esiste tra x e y, usando una retta, per esempio la retta verde, una costante, la costante verde, oppure una retta, come vedete qui la retta viola, oppure potrei usare una parabola, che è la parabola rossa. Ovviamente ognuno di noi può avere le sue preferenze, ho occhio, l'impressione è che la costante sia probabilmente un po' troppo poco per descrivere questi dati, che sembrano avere una tendenza a salire, la retta sembra migliore, però legittimamente si potrebbe anche pensare che sia meglio la parabola. Come potremmo decidere tra questi tre modelli, la costante, la retta e la parabola. Questo è un problema interessante, molto semplice, che si ripropone sotto vari aspetti, assai spesso nei problemi di identificazione. Allora, c'è un'idea, premetto subito che è stupida, però direi che è un'idea che dobbiamo discutere per prima, ed è questa. Noi, una volta che sappiamo che il modello è, per esempio, una retta, sappiamo come procedere, cioè tra tutte le infinite rette che differiscono per il coefficiente angolare e per l'intercetta, scelgo la retta che passa più vicino ai punti, quindi per esempio scelgo la retta ottenuta col metodo dei minimi quadrati, quindi l'idea è che tra le infinite rette, la retta migliore è quella che ha la somma dei quadrati più piccola, perché è quella che sta più vicino ai punti sperimentali. Quindi, se il criterio dei minimi quadrati è adeguato per scegliere la migliore retta, potrebbe sembrare sensato che sia un buon criterio anche per decidere se scegliere una parabola oppure una costante, quindi potrei cercare la migliore costante, sempre col metodo dei minimi quadrati, la migliore retta, sempre col metodo dei minimi quadrati, e la migliore parabola, sempre con il metodo dei minimi quadrati. E alla fine potrei decidere chi vince tra questi tre modelli semplicemente andando a vedere chi passa più vicino ai dati sperimentali, quindi quale di questi modelli ha la somma dei quadrati dei residui più piccola. Ecco, questa è un'idea stupida, come abbiamo anticipato, perché in realtà so già come va a finire. Per i modelli di tipo Matryoshka, inevitabilmente, se uso questo criterio, il modello vincente è sempre il modello più complicato. E la ragione è molto semplice. Non è possibile che una costante vinca su una retta, proprio perché abbiamo dei modelli Matryoshka. Se una costante vincesse su una retta, siccome una costante è una retta particolare, vorrebbe dire che quando io ho scelto la migliore retta possibile, non ho fatto la scelta migliore, perché la scelta migliore era proprio la costante. E lo stesso vale nel confronto tra la retta e la parabola. Quindi una proprietà dei modelli Matryoshka è che la somma dei quadrati dei residui del modello ottimo non può mai salire, quindi al massimo può rimanere costante, quando aumenta la complessità. Quindi se io prendo la miglior costante e poi vado a stimare la migliore retta, la somma dei quadrati di residui della migliore retta può essere più piccola, e spesso succederà così, ma sicuramente non può essere più grande della somma dei quadrati dei residui della costante. Per questa ragione usare questo criterio porta in generale a scegliere sempre il modello più complicato. Anzi, se io in questo caso in cui ho 1, 2, 3, 4, 5, 6 dati usassi un polinomio di grado 5, avrei 6 parametri a disposizione perché avrei il termine costante più il termine che moltiplica il monomio di grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, avendo 6 parametri a disposizione riesco a trovare in generale un polinomio di grado 5 che interpola perfettamente i dati. Interpolare i dati vuol dire che i residui sono a 0. E questa è una cosa generale, quindi se io avessi 100 dati, il polinomio di ordine 99 mi interpolerebbe i miei dati sperimentali annullando la somma dei quadrati di residui e quindi risultando come miglior modello tra tutti i modelli. Quindi questa è un'idea stupida perché so già come finisce anche se però qualcuno potrebbe insistere e allora a questo punto dobbiamo cercare di rispondere alla sua obiezione e qualcuno potrebbe insistere e dire va bene ma che male c'è a usare tanti parametri per cui per esempio nel problema precedente noi abbiamo 6, in questo caso ho aggiunto un punto qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punti perché non dovrei usare un polinomio di grado 6 che interpola i dati? Che male c'è? E' così bello avere una curva che passa perfettamente sopra i dati non si vede perché io debba rinunciare a questa proprietà del modello. Allora qui la risposta diciamo deve tener conto proprio del rumore allora se i dati fossero privi di rumore e io avessi anche azzeccato la struttura del modello effettivamente si potrebbe pensare anche di eccedere, di largheggiare con il numero dei parametri faccio un esempio semplice immaginiamo che i dati stiano tutti su una retta chiaramente se uno guarda i dati lo vede subito e quindi non dovrebbe mettersi a identificare una parabola però immaginiamo che io non abbia guardato i dati e che voglio identificare la mia relazione x y con una parabola ebbene siccome i dati stanno tutti su una retta e quindi una retta che ci passa sopra a zero i residui e siccome io uso i minimi quadrati per stimare la migliore parabola cosa succede? facendo l'identificazione dei minimi quadrati otterrò esattamente una retta cioè il coefficiente del termine quadratico risulterà magicamente uguale a zero perché chiaramente io minimizzo i residui ma i residui sono zero utilizzando una retta e quindi io ottengo una retta anche se in teoria poteva esserci un andamento parabolico però questa cosa succede se i dati sono privi di rumore cioè se i dati sono su una retta evidentemente sono dei dati privi di rumore la realtà è ben diversa di solito i dati sono rumorosi a volte anche molto rumorosi e il risultato è particolarmente fastidioso in questo caso perché se i dati sono rumorosi e io uso dei parametri inutili quindi per esempio in questo caso ho immaginato che il modello vero sia di tipo parabolico che è quello rosso e che io voglio stimare questi dati con un polinomio di sesto grado il polinomio di sesto grado interpola i dati perché abbiamo detto sono sette dati il polinomio di sesto grado ha sette parametri e io ottengo un risultato di questo tipo allora il risultato di questo tipo non è particolarmente brillante perché se io invece avessi rinunciato a usare così tanti parametri avessi identificato il mio modello con un modello di tipo parabolico quindi con solo tre parametri a quel punto non avrei ottenuto il modello vero rosso però ci sarei andato abbastanza vicino mentre invece aver voluto seguire pedissequamente i dati porta a un andamento oscillante ecco c'è un modo di dire nel gergo dell'identificazione che io trovo molto espressivo che è quello di imparare il rumore cioè in questo caso il modello impara il rumore se si mettono a disposizione di un modello dei parametri inutili questi parametri inutili verranno usati per ridurre i residui e l'effetto è che si impara il rumore cioè si ottiene un andamento che invece che seguire il modello vero va a scimmiottare gli errori di misura che erano presenti in quel particolare dataset ma se io in un futuro dovrò fare delle previsioni quindi questi scostamenti rispetto al modello vero sono casuali quindi un giorno potrò avere questo valore sopra l'altro giorno avrò un valore sotto e quindi alla fine mi ritrovo un modello molto sensibile a una particolare realizzazione degli errori di misura ma che ha scadenti proprietà come si dice di generalizzazione cioè se lo uso per fare delle previsioni tipicamente funzionerà peggio di modelli più semplici ecco questo ci conduce a formulare quello che viene chiamato principio di parsimonia principio di parsimonia in generale ci dice di non usare parametri superflui per descrivere un fenomeno quando questi parametri effettivamente non sono necessari quindi se ti basta una parabola usa una parabola se tu metti più parametri questi parametri verranno usati per imparare il rumore quindi non ti porteranno nessun beneficio ma invece hanno il potenziale di peggiorare le prestazioni del tuo modello ecco tutto questo è un discorso qualitativo vorremmo di nuovo dargli una valenza quantitativa quindi consideriamo nel caso di modelli matrioska la situazione in cui abbiamo due modelli che chiameremo due classi di modelli mk e mk-1 allora per esempio mk potrebbero essere le parabole mk-1 potrebbero essere le rette identifico nelle due classi di modelli il modello migliore con i minimi quadrati ottengo la somma dei quadrati dei residui ssrk e ssrk-1 questa è la somma dei quadrati dei residui quando ho k parametri questa è la somma dei quadrati dei residui quando ho k-1 parametri ricordiamoci che se il modello diventa più complesso quindi ha più parametri la somma dei quadrati dei residui non può che decrescere quindi in particolare possiamo dire che di solito ssrk sarà più piccola di ssrk-1 in alcuni casi eccezionali potrebbe essere uguale per esempio quando i dati sono tutti allineati su una retta se io uso il modello parabolico non potrò fare altro che riprodurre ancora una retta in questo caso invece del minore ci sarebbe un uguale ma diciamo nelle situazioni pratiche succede di norma che qui c'è un minore a questo punto io devo decidere se tenere il modello più semplice per esempio potrei tenere la retta o se mi conviene usare un modello più complicato per esempio la parabola allora l'idea ancora una volta è un'idea molto semplice scelgo il modello più complicato solo se ssrk oltre a essere più piccolo di ssrk-1 è molto più piccolo perché l'idea è che aggiungendo un parametro riesco a spiegare meglio i fenomeni che stanno dietro i miei dati e questa spiegazione migliore è talmente determinante da produrre un calo della somma dei quadrati dei residui di un certo rilievo ecco di nuovo ci scontriamo con un'affermazione fumosa cioè dico scelgo il modello più complicato solo se la somma dei quadrati dei residui diventa molto più piccola ma cosa vuol dire molto più piccola? ecco di nuovo viene la statistica il nostro aiuto e sotto l'ipotesi I1 che avevamo fatto in precedenza si dimostra che questa quantità è una variabile casuale con determinate proprietà questa variabile casuale in particolare è distribuita come la variabile casuale F di Fischer con 1,n-k gradi di libertà la variabile casuale F di Fischer è un po' come la variabile chi quadrato una variabile parametrizzata in funzione dei gradi di libertà ma a differenza della chi quadrato che ha un solo parametro di gradi di libertà la F di Fischer è una Fn1,n2 quindi bisogna specificare due diversi gradi di libertà qui il primo grado di libertà è uguale a 1 il secondo grado di libertà è uguale a n-k vi ricordo che n è il numero dei dati quindi in questo caso io vado a calcolare la differenza di somma dei quadrati dei residui quando uso il modello più semplice meno quella quando uso il modello più complicato abbiamo detto che se complico il modello diminuisce questa somma dei quadrati dei residui quindi questo numeratore sarà sempre maggiore o uguale a 0 e poi la divido per la somma dei quadrati dei residui del modello più complicato quindi è una specie di variazione percentuale della somma dei quadrati dei residui mi dice in relazione a SSRK di quanto ho ridotto la somma dei quadrati dei residui cioè percentualmente di quanto è migliorata la mia aderenza ai dati sperimentali e poi qui davanti c'è una costante numerica che è n-k ecco questa quantità sotto l'ipotesi 1 è distribuita con una f di Fisher questo significa di nuovo che possiamo usare le tabelle statistiche per capire se questa quantità è grande o piccola perché questo è l'elemento decisivo cioè se questa quantità è grande vuol dire che ho un grande beneficio nell'usare il modello più complicato se questa quantità è piccola vuol dire che l'aderenza ai dati sperimentali usando il modello di categoria k di classe k e quello di classe k-1 non sono così diverse tra di loro questo è spiegato in questa prima osservazione in relazione alla f di Fisher vale la pena di ricordare che quando n-k diventa grande la f di Fisher assomiglia a una variabile casuale a chi quadrato con gradi di libertà uguali al primo dei due gradi di libertà siccome qui il primo vale 1 per n-k la f di Fisher diventa un a chi quadrato a un grado di libertà ecco questo 1 deriva dal fatto che io sto confrontando modelli la cui complessità differisce di un'unità quindi per esempio sto confrontando una parabola con una cubica oppure sto confrontando una cubica con un polinomio di quarto grado qui noi non lo discutiamo ma si può vedere che il teorema che stiamo riportando qui vale anche nel caso in cui confronto modelli che hanno un salto di due gradi di libertà quindi potrei confrontare una retta con una cubica in questo caso la retta ha due parametri la cubica ha quattro parametri in quel caso quando il salto nel numero dei parametri è maggiore di 1 per esempio è uguale a 2 qui invece che 1 troverete 2 però diciamo per quello che interessa noi useremo questa f di Fisher sempre col primo grado di libertà pari a 1 ecco allora in maniera abbastanza analoga al test del chi quadrato possiamo formulare il test della f di Fisher fissiamo di nuovo un livello di significatività e diciamo nuovamente vi dico che la scelta tradizionale è del 5% alfa uguale 0.05 a questo punto cerco sulle tabelle della f di Fisher il valore critico che chiameremo f alfa e poi adotto una regola molto semplice mi calcolo questa quantità la chiamo f minuscolo e controllo se è più piccola di f alfa ricordatevi che più piccola significa che aumentando la complessità del modello la somma dei quadrati dei residui non cambia di molto allora in questo caso tengo il modello più semplice quindi aggiungendo un parametro per esempio passando dalle rette alle parabole vedo che l'aderenza ai dati sperimentali si è modificata in maniera non particolarmente forte e quindi mi accontento della retta viceversa se f è maggiore di f alfa vuol dire che questo numeratore è grande quindi questo ssrk è abbastanza più piccolo di ssrk meno 1 in questo caso respingo l'ipotesi nulla cioè l'ipotesi nulla è che valga il modello più semplice e adotto il modello più complicato mk alcune osservazioni è interessante che in questo test che permette di risolvere una competizione tra due modelli modelli matrioshka non è necessario conoscere il valore di sigma quadro e questo è decisamente un vantaggio perché in alcuni casi effettivamente potrebbe essere una quantità che non è nota se la matrice varianza del vettore del rumore v non è proporzionale all'identità ma è per esempio proporzionale a una matrice psi definita positiva tutto quanto si ripete tale e quale sostituendo al posto della somma dei quadrati dei residui epsilon trasposto epsilon una somma dei quadrati dei residui pesata scritta come epsilon trasposto psi alla meno 1 epsilon un'osservazione l'esito del testo ovviamente dipende dalla scelta del livello di significatività quindi con un alfa piccolo io come dire accetto il modello diciamo scelgo il modello più complicato soltanto se f è molto grande quindi aumenta la probabilità di sottostimare l'ordine viceversa con un alfa grande ho invece una sono diciamo più disponibile a scegliere modelli complessi però aumenta la probabilità ovviamente di sovrastimare la complessità del modello quali punti deboli potrebbe avere questo test questo test statistico allora un primo punto debole come al solito è l'ipotesi che esista un modello vero e che tra l'altro questo modello vero è specificato in maniera molto forte stiamo parlando del modello I con 1 quindi diciamo c'è una struttura lineare nei parametri e in più sto facendo delle ipotesi molto forti sul vettore V che abbiamo detto gaussiano e con una certa una certa varianza ecco e ammesso che esista un modello vero tra l'altro io sto anche non solo ammettendo che esista un modello vero ma sto anche pensando di averlo azzeccato quindi sto dicendo che i dati sono generati da uno dei modelli delle mie classi matriosca quindi se considero i polinomi dico la realtà i dati sperimentali nascono da una retta oppure da una parabola o da una cubica o da un polinomio di quarto grado e così via in realtà potrebbe essere che i dati non nascono da nessuno di questi ma che nascono invece da un modello che ha una struttura completamente diversa l'altra cosa è che il criterio del test F per come è stato formulato si applica solo a classi di modelli matriosca io per esempio potrei voler confrontare dei polinomi dei modelli polinomiali con delle somme di seni e coseni ecco oltre a questo approccio del test F abbiamo anche un altro approccio che è interessante perché ci porta anche a capire come bisogna guardare ai risultati dell'identificazione allora il punto di partenza è un'osservazione supponiamo che valga l'ipotesi con 1 e che il modello vero effettivamente sia mk ecco però quindi per esempio una parabola però pur essendo vero che il modello giusto è una parabola capita che uno dei suoi coefficienti il valore vero di uno dei suoi coefficienti è 0 per esempio il termine quadratico potrebbe essere 0 potrebbe essere nullo quindi in quel caso è vero che il modello vero è una parabola ma il modello vero è anche una retta perché siccome è 0 questo parametro in realtà diciamo è inutile usare il modello mk basterebbe il modello mk-1 quindi la retta però sicuramente questo è un modello giusto perché è del tutto lecito immaginare un modello parabolico in cui il coefficiente di secondo grado è uguale a 0 allora noi sappiamo che se usiamo lo stimatore blu lo stimatore blu è distribuito gaussianamente oltre a essere distribuito gaussianamente è non polarizzato quindi vuol dire che il suo valore medio è uguale al valore vero del parametro in questo caso sappiamo che il valore vero del parametro è 0 stiamo ipotizzando che sia 0 e poi ha una certa varianza ecco notate che qui viene usato g per indicare gaussiano altrove abbiamo usato n quindi non lasciatevi confondere da questo dettaglio allora se vale questa proprietà io posso standardizzare il mio stimatore come si standardizza? si toglie il valore medio ma il valore medio è 0 e si divide per la deviazione standard la deviazione standard del parametro è questo sigma θ a suo tempo abbiamo anche imparato come si può calcolare questa sigma a quadrato θ però in questo momento non ci interessa il come procediamo alla standardizzazione se io standardizzo questa diventa una variabile gaussiana standardizzata quindi è una gaussiana standard allora per una gaussiana standard voi sapete che nel 95% dei casi essa assume valori che in modulo sono minori di 1,96 quindi sono valori compresi tra meno 1,96 e 1,96 con probabilità nel 95% ma avendo standardizzato questa proprietà che vale per la gaussiana standard vale anche per il modulo di θ JLS diviso sigma θ quindi morale della favola se per caso uno dei parametri del modello è uguale a 0 noi possiamo dire che sotto l'ipotesi con 1 nel 95% dei casi nel 95% dei casi il modulo di questo parametro qui manca il modulo il modulo di questo parametro è minore di circa due volte la sua deviazione standard in realtà 1,96 ma diciamo circa due volte la deviazione standard ecco attenzione che questa relazione con 1,96 vale nell'ipotesi che sigma quadro sia conosciuta perché altrimenti avevamo visto che bisogna usare la td student quindi al posto di 1,96 avrete un valore un po' più grande però immaginando per un attimo che sigma quadro sia conosciuta qui effettivamente vale questo 1,96 e quindi nel caso in cui uno dei parametri sia nullo il valore vero sia nullo il parametro stimato risulta in modulo minore di due volte la sua deviazione standard ecco questo è una specie di campanello di allarme quindi vedendo questa cosa io se ho un parametro diverso da zero quindi un parametro che esiste veramente mi immagino che lui debba essere maggiore di due volte la sua deviazione standard viceversa se vedo un parametro che è più piccolo del doppio della sua deviazione standard mi insospettisco potrebbe essere l'indicazione che quello lì è un parametro il cui valore reale è zero e perché mi viene diverso da zero la stima mi viene diverso da zero perché i dati sono rumorosi quindi l'unica ragione per cui quando io vado a calcolare il teta lsj trovo un valore diverso da zero perché ho propagato il rumore l'errore di misura nei dati e questo mi porta a delle oscillazioni intorno allo zero ma queste oscillazioni nel 95% dei casi non sono tanto grandi nel 95% dei casi queste oscillazioni fanno sì che io rimanga entro più o meno due volte il sigma teta ecco se io ho un parametro che diciamo effettivamente non è distinguibile dallo zero può essere buona norma semplificare il modello mettere a zero questo parametro e quindi ricorrere a un modello più semplice quindi se per esempio il confronto era tra una retta e una parabola a questo punto io ben volentieri potrei mettere a zero il coefficiente teta per esempio il coefficiente del termine quadratico e a questo punto rinuncio alla mia parabola e ripiego su una retta comunque in generale c'è questa regola che dovete tenere a mente poi dopo la vedremo anche messa in pratica che dice che è bene diffidare di modelli in cui i parametri stimati non siano almeno due o tre volte più grandi della loro deviazione standard quindi una diagnostica che viene tipicamente applicata è quando voi stimate i parametri del modello accanto a questi parametri ci mettete la loro deviazione standard e controllate se questa deviazione standard è almeno diciamo deve essere piccola insomma la metà o preferibilmente meno della metà del modulo del parametro del parametro stimato ecco io direi che a questo punto ci fermiamo per una pausa grazie grazie